ciao a tutti bentornati qui con una nuova puntata sulla coronella siamo a gennaio infatti è tutto ghiacciato guardate un po c'è tutto bianco tutto ghiacciato fa fortuna che almeno non ha nevicato e riusciamo ancora a fare qualche lavoretto sui nostri campi nella speranza che diventano diventano pronti i nostri campi da 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 tagliare l'erba perché ancora non se ne parla e non è il massimo anche perché dovremmo dopo andare a seminarli di nuovo e speriamo che facciamo il tempo ma comunque nella puntata precedente abbiamo comprato il caseificio dove sto ancora portando del latte infatti il mio aiutante è al secondo al terzo viaggio adesso questo non me lo ricordo cioè vuol meglio dire non lo so perché non è che gli sto dietro perché io nel frattempo sto andando a caricare i pallet perché gli dobbiamo portare i pallet perché altrimenti la produzione lì non aumenta e non è il massimo abbiamo comprata deve fruttare qualcosa allora se non sbaglio dovrei essere sulla strada giusta sì adesso dovremmo andare qua a destra se non sbaglio e fammi vedere dov'è e qui sì dovrebbe essere questo qua mi sono sbagliato alla fine no 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 vabbè allora andiamo a prendere un po' di pallet ecco sta cosa qua visto che ci siamo controlliamo anche come siamo messi con i tronchi perché è un po' che non gli porto più della legna è vero che non abbiamo tirato fuori tantissimi pallet tranne che quelli che abbiamo preso per le nostre serre dei pallet non abbiamo presi tantissimi allora vediamo un po' come siamo messi beh quattro già ci sono e penso che per adesso bastino ok poi vediamo se me ne da altri due tre io direi che ne prendo altri due basta basta così vediamo come siamo messi allora vediamo un po' no 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 qua dov'è 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 qua qua oh legna ce n'è ancora 30.000 più della metà pallet ne abbiamo 6.000 pronti no va bene allora ho guardato la questione quella che è il discorso delle pecore no è quasi quasi direi che possiamo andare a investire anche nelle pecore andiamo a prendere le pecore tanto mi sembra che un po' d'erba ce l'ho ho erba un po' di fieno qualcosa del genere dovrei averla così visto che abbiamo il casificio e possiamo produrre il formaggio e oh ecco perché sto traffico se ti tiro così no troppo no vai lì ma dove vuoi andare ecco bravo vamo quello ce la fa uscire ce la fa perché quella macchina si è infilata vorrei sapere perché c'è tutto secondo me si sono picchiati contro un qualche macchina si vai distruggilo vabbè eh questo è già scaricato e sta tornando indietro dove è il mio tractor qua uh devo arrivare fino alla sotto qui è lontana la cosa eh perché devo attraversare tutta la mappa qui è lunga adesso proprio non saprei neanche quale strada è quella più corta secondo me se vado di qua vado sinistra adesso poi lì a destra e dovrei essere già dalle mie mucche poi faccio la strada che fa il l'aiutante con autodrive no? tanto autodrive intelligente quello a proposito eccolo qua dov'è la stalla quella per il latte vediamo e infatti qui latte ok vediamo cosa fa qua eh proteine erba e fieno ok quanto costa? perché dobbiamo vedere quanto costa perché non è che è così arrivo e compro eh settantacinque mila si può fare compra compriamo anche questo adesso compriamo anche qualche eh qui ci devo portare anche l'acqua si vabbè c'è il mio aiutante compriamo anche qualche pecorella allora eh a seconda adesso vediamo un po' se c'è differenza tra eh la pecore eh a seconda della stalla che scegli le pecore girano latte o lana vabbè questo ok potrai vendere direttamente o lavorare i tuoi eh o lavorare nei tuoi stabilimenti ok queste otto mesi non c'è differenza però eh allora differenza tra l'una e l'altra non ne vedo eh però non mi dici la cosa della riproduzione perché allora mettiamo qua eh questo è 0 mesi 0 mesi 6 mesi no periodo di gestazione allora 0 mesi 8 mesi 0 mesi 8 mesi allora io direi che prendiamo questo dai tanto no mmm prendiamo le marroncine mi piacciono di più allora seleziona direi che quanto sono sessanta trentamila non ce li ho mmm no 32 no e allora facciamo così che mmm così faccio prima direi che ne prendo una trentina dai prendiamo una trent trenta trenta di queste van bene ok e trenta di queste queste costano un po' meno ok allora quando finisce il il tipo con il latte porteremo l'acqua e poi devo portare l'erba e le proteine ma tanto le proteine questo ce l'ho va bene ok allora sali bene e abbiamo anche le pecore ragazzi abbiamo fatto quest'inverno un po' di roba oh un controsenso rotonda controsenso mi sono sbagliato non si fanno le rotonde controsenso sarebbe il caso di farle giuste secondo me secondo me il tipo gli è venuto un colpo quando mi ha visto controsenso mmm ok allora portiamo sti pallet là sotto e poi comunque dovrò mettere un coso da caricare dell'acqua qua o metto un trigger cioè un un palettino con l'acqua da qualche parte magari anche in fattoria perché se questo qua non funziona mi tocca caricare l'acqua dai fiumi però lì la devo fare sempre io e mettiamo il caso che lo volessi far fare non funziona almeno che non ha il trigger ma non penso pure una volta giocato su una mappa che avevo il trigger dagli da una botta così gli do una mano in salita vai beh vedi bisogna aiutarsi adesso mi scappa va più veloce lui e anche qui da nuovo c'è una salita vai ti do una spinta stavo dicendo che giocavo su una mappa e aveva il trigger vicino al fiume non mi ricordo come si chiamava questa mappa qua dai che ci siamo quasi qua cosa c'è la Finlandia qualcosa boh mi ricordo beh oh ragazzi abbiamo speso 200 passa milla tra la puntata precedente e questa mmm oh però dobbiamo investire per guadagnare dei soldi qui altrimenti non si fa niente ma perché rallenti anche in discesa tu? eh? dai che siamo arrivati beh adesso vado fuori strada per guardare lui cosa fa vado fuori strada io ok qua ci siamo allora scarichiamo sti pallet mi tengo alla lontana del mio aiutante qua così che lui può lavorare tranquillamente nella speranza che quando scarica io adesso gli taglio la strada così oh pieno perfetto allora siamo a posto così vediamo un po' spero che in questo posto qui non darò fastidio abbiamo dove no non me lo fa vedere a nessuna parte vabbè facciamo così eh no dove 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 allora qua finalmente l'ho trovata ok attiva l'app latte funziona pallet abbiamo fatto il pieno questo è attivo questo è attivo questo possiamo anche disattivarla tanto per adesso non funziona allora posso allora il latte di pecora posso metterlo in funzione va bene qua mi manca lo zuzzarus senza zucchero non si fa senza zucchero la pillola non va giù vabbè allora direi che a te adesso dove li porto questo qua mmm facciamo una cosa scarichiamo sti pallet in magazzino oh c'è pure cosa in magazzino perfetto allora tu vai in magazzino no 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 dove vai fe 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 pulsante sbagliato che pulsante sbagliato allora vai vediamo il mio aiutante noh qua il mio aiutante ma perchè fanno semplicemente cacchiate qua guardate un po' che mi son bloccato eh perchè sicuramente si picchiano con le macchine e ehm beh quello va a scaricare almeno questo cosa che parla la macchina no beh questo va a fare il giro lungo questo è ancora un altro viaggio benissimo oh guardate questo si è picchiato di nuovo contro qualcuno qua ma perchè ste macchine si fermano ahhhh ah parti ok questo adesso farà un giro enorme ma va bene uguale non è un problema questo cosa sto facendo ancora? ancora? ancora latte eh vabbè se ha ancora del latte lo facciamo scaricare questo nel frattempo sta andando al negozius piano piano beh direi che possiamo aspettare un po' perchè qui i miei colleghi stanno facendo un po' di tutto e non ho non ho trattori liberi tranne che lui qui è quasi quasi direi che continuo qua con arare i le mie mandorle perchè un po' di aratura qua ci vuole mentre loro fanno i loro giri io mi faccio qua un po' di mandorle perchè comunque dovrò farlo tanto vale che ne approfitto allora giriamo di qua dai ok forse sarebbe il caso di alzarlo eh aspetta questo li ho fatti andiamo di là allora giù ok vai beh ragazzi direi che facciamo così visto che non ho altri trattori liberi da fare qualsiasi altra cosa perchè ci sarebbe da portare l'erba alle pecore e anche l'acqua alle pecore ma finquanto non abbiamo trattori liberi non possiamo fare altro adesso se ne sta liberando qualcuno ma per adesso non è così direi che questa puntata la facciamo un pelo più corta io vi do appuntamento alla prossima puntata sempre qui sulla coronella un salutone ciao 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 ciao